Senatore, la Lega Nord quale critica avanza nei confronti del Governo per quanto riguarda lo sport? L'ultimo incontro che c'è stato in commissione con il Ministro allo Sport è stato con poche idee e soprattutto con pochi soldi. Il Ministro allo Sport è venuto in commissione a raccontarci quelle che sono le sue linee programmatiche. Avevamo delle grandissime aspettative perché da un campionesso olimpico ci aspettiamo una rivoluzione nel campo dello sport sotto il punto di vista del doping, sotto il punto di vista della lotta alle scommesse, tantissime cose che affliggono lo sport italiano. In questo momento ci è venuto a dire che non ci sono soldi, che si aspetta di realizzare le sue iniziative attraverso gli enti locali e le scuole, due istituzioni che sono in questo momento senza soldi, ma soprattutto la cosa più grave che siamo venuti a sapere è che nell'unico bando messo a disposizione da questo Ministero per la ristrutturazione degli impianti sportivi c'è una clausola che avvantaggia gli impianti sportivi del Sud. E quindi quello che diciamo è che non ci siamo, è che tutti gli impianti sportivi sia del Nord che del Sud devono essere posti sullo stesso livello e che anche ancora una volta la meritocrazia viene lasciata da parte. Ci dispiace perché viene lasciata da parte da una donna di sport.